Prova, dai! Dai! Poi no, però andiamo a vedere. Adesso con capo questo. E allora, perciò prenderti l'idea. Sassiate che le penali sono distanti dall'acqua, lo sporco, ma soprattutto la spiera fritta. La cosa meravigliosa dello space mop è che non solo vada ad asciugare il pavimento, ma non solo vada ad asciugare il pavimento, catturo lo sporco, ma oltretutto non devo scappare da nessuna parte. Ora i capelli stanno qua. Voi ve li dovete togliere con le manine. Ti faccio notare anche un'altra cosa. Vieni qui. Vedi quel secchio? È già pieno di capelli.